bella a tutti ragazzuoli e bentornati in questo nuovo gameplay di minecraft 1.0 con il letto baggatissimo che si illumina al buio no ci sono mostri nelle vicinanze chi c'è tua madre nelle vicinanze qua la mostra che cazzo è che rompe lì coglioni chi c'è nelle vicinanze dimmi cosa dove quando perché in qual periodo della storia odierna che mostro non c'è nessuno ma c'è un ragno del cazzo ecco che c'è sta mortacci sua via qua va state cazzo state cazzo via qua che t'ammazzo madonna mi è pieno spero che mi fa dormì cazzo dio sennò non lo so domani nell'occhiaia che cazzo domani porco due non si sa ne ho... nelle occhiaie ci metto i cosi ci metto di tutto domani nelle occhiaie ci metto sto cazzo sto cazzo e fammi dormì e fa e fammi dormì che ce n'ho bisogno la porta aperta popò 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 temerario me so popò mamma mia questo qua questo qua si cuocemo il vetro che può sempre servì e mettiamo un po' di coso va mamma mia quanto so veloce non mi vede nessuno bimmi allora allora io vorrei fare un bel allevamento di polli così mi prendo le piume e le frecce ovviamente quindi un po' di semi ci ripiamo e il pietrisco ce l'ho questo seposa questo seposa eh già allora oggi mi sento un po' coglione se non sarà capito vabbè oh me posso fare i cosi e librerie e me li faccio mamma le pio tutte e 64 non hai capito tac 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 e seposa c'è il funno è stato un po' le d'oro te stai stronzos e dammeli tutti borgh e 2 ok i 3 7 7 7 7 Sette liblelie, l'isoflitto, la mallopallone, la mallopallone, vabbè, basta. Che cazzo devo fare? Dove faccio l'allevamento? Oh, creeper di merda, vieni qua che ti rompe il culo. E morici male, puttana. Io lo farei proprio qua, regà, guarda che bello spazietto, qua. Vè? Ma cifra? Sì, sì, lo faccio qua io. Oh, e n'amono. Oh, così lo voglio, così è fighissimo. Così mi piace. Sì, mi piace, mi piace. Mi piace, mi piace. Ora le torce. Uno. Due. Tre. E quattro. Poi, devo andare a piare le cose, come cazzo si chiamano. Le, 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 le. Mentacco sempre tu sta casa, incredibile. Ma eccola. Che, i cancelli, ecco. Mi veniva. Lapsus Freudiani. Eh, sei stronzo. Vaffanculo. Ecco. I cancelli stavano qua. La lana nera si fa pure. La lana nera. Ma io il piedrisco, anzi, non lo prendo. Se mi venisse in mente qualcosa. Oh, quattro frecce c'ho, non è mai. Oh, posso già fa' un po' di frecce. Io le faccio. Così. Se non sbaglio, dodici ne posso fa'. E infatti. Ricordate, io non sbaglio mai. E se sbaglio, è perché c'ho ragione. Boh, non va bene. Non l'avete capito. Ok. 12 frecce. Anzi, 16. Stava qua. Mi piace, mi piace proprio. È venuto proprio figo. E vabbè, ma è pieno di polli, porco due. Se mi trovo mo' che mi servo. Ah no, c'ho le uova. C'ho le uova, firmo. Perché mi devo rovinare l'esistenza, avvelenare l'anima? Cioè, fammi capire. So, pieno di uova. Mi sono lasciato apposta. Ma che cazzo sto a fa'. Eh, e dai, e no. E dai, e no. Guardanti ce n'ho. Con due. Vabbè, ma io te in cazzo. Ah, ah, ma io te in cazzo, dai. Quattro ce n'ho, dai. Quattro, va bene. Per ora, quattro bastano, dai. Poi dovrei fare pure mucche, cose così, però non c'ho spazio qua. Già, tanto se l'altro ha tuo spazio più di così. Lo sapete, regà, che mi piace proprio come sta avvenendo. Me piasa, me piasa. Me piasa, me piasa. Bello pulito, bello... Fico, fico. Però, io, boh, questa che cazzo c'è sta a fa'. Cioè, è inutile. Io la leverei, questa. Ma sì, levamola, va. Questa sospesa è brutta in culo. Poi, si leva questa roba. Vabbè, qua ci faccio un altro recinto. Però, mo' andamo se ne addormi, se no... Copia la terra. Quanto sta? 63, è finito. Ok, quindi il vetro si poggia. 64 di vetro, anzi, vogliono perché vanno benissimo. La porta si poggia qua. Gli scalini... No, questi mi possono servire. Questa se poggia. Legno di guercia, legno di guercia scura. Scalini. Terra. Se magna. E se dorme. Ok, ora. Oh, mortacci tua. Guarda, senti. Guarda, entra nelle case dell'Archie così, proprio... Come se fosse la propria. Tacci. Come al solito, qua faccio. Uno. Due. Tre. Quattro. E qua faccio così. Ecco fatto. Uno. Due. Tre. E quattro. Ok, raga. Qua vabbè, ho fatto un attimo... Ho fatto un attimo zompato, tanto non è che... Zompato tre al volo, così. Ok, qua metto una scala. Qua voi crescite belli. Belli e belli, eh. Mi raccoman. Mi raccoman. Queste due cose, se le demonisco, boh. Beh, oddio, mi viene un buono spazio. Un buono spazietto mi viene. Ho di maiali con come cazzo si piovono quei carote, se non sbaglio. Però... Fammi pensare. Magari li faccio qua, che è un po' più largo. Qua devo demolire tutto. Ma sì, tanto non ci faccio niente con sta roba, raga. E devo piacere i maiali. E devo andare a raccattare un po' di terra. Eh, già. Anzi, no, lo sai. Forse... Così, così, faccio qua io. Così, così, la porto allo stesso livello. Non la lascio così. Lo porto in giù tipo quello. Oh no. No, vabbè, dai. E se lo cominci a far mo' il fossato? Comunque, comunque, uno l'ho rifatto e due mi serve terra. Boh. Intanto scavo tutto attorno. Così. Così è già pronto per essere utilizzato. No, dove cazzo sto andando? No, no, vabbè, fammi capire. No, non lo faccio giusto così al volo. Poi devo rifare, devo... Cioè, non metto la lava qua. La faccio di pietrisco. Ovviamente. Faccio così, almeno mi prendo le grandi terre. Faccio dei pietrisco, ovviamente, poi. Se blocco, muovi tutto, va. Ci sto, pulisco pure un po'. Quindi devo abbassare. Così. Mi sei quasi fottuto la pala, porco, due. E starò tipo a metà. Madre. Poi sopra il coso ho già in mente come farlo. Per rifinire sopra la scala. No, che cazzo sta di sopra la scala? Per rifinire, tipo... Che cazzo? In cima al muretto. Non dovrebbe mancare molto, però, dovrei essere quasi arrivato a aver fatto il giro. No, manco per il cazzo. Non dovrebbe mancare molto, ma, di sbagliare molto, va. Favamo se una pala e finiamo con l'iniziale. se me ne avrei due uno e due vabbè, sta roba non la voglio buttare non ti che mi può servire voglio tanto che sto qua faccio questo madonna no, viene troppo stretto e piccolo no, no, ma che è viene una merda no, no ci farò qualcos'altro ma così viene veramente una merda no 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 mi ricordavo che era quanto cazzo era grosso mi pareva molto più piccolo cazzo no 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 metà dentro mi sa e io mi sono a arrivare mamma mia vabbè comunque la terra è sempre utile ah no ecco mi sono ricongiuto porco zio però ok oh già state cresciute brave e belle pollastrelle mie qua non ho qua regata non so che cazzo faccio ne mi devo inventare qualcosa eh si per ora ce lascio due torci se no mi spona gente tac 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 ma tale streghe mortacci loro fammi andare via ok mi metto un po' a posto la roba penso che posso pure concluderla qua qua butto sta roba qua questo questo le scale le terre hanno pesa un bel po' va benissimo così questo si butta patate per mangiare torci spada piccone ascia mi faccio l'altro mi faccio la pala ce l'ho mi faccio piccone riscorta un'ascia riscorta piccone ascia e pala piccone pala e ascia vabbè la spada non serve alla fine ok ragazzi questo gameplay può concludersi qui mi raccomando come ogni gameplay se vi è piaciuto mettete tanti mi piace commentate condividete e iscrivetevi al canale se no arrivo là e ben culo uno per uno senza vasella e col sale grosso detto questo ragazzi se beccamo a un prossimo appuntamento con minecraft 1.0 bella raga